Ciao a tutti, siamo in MV Agusta, sul lago di Varese, per informarvi di qual è esattamente la situazione e il futuro di un marchio che sta a cuore a tutti noi in modo particolare. Qui c'è il presente e il futuro di MV, nel senso che dall'agosto scorso i Castiglioni sono rientrati in azienda, l'Arley è uscita, lo sapete, e si è partiti da una novità che è Massimo Bordi, che nuovo non è perché già con Castiglioni aveva lavorato. E' Maurizio Tanca, che è la nostra memoria storica, a lui l'incarico di inquadrarci Massimo Bordi in 10 secondi. Massimo Bordi è per me un mito perché è stato in Ducati occupandosi di un po' tutto, dai motori diesel alle moto, dal 78 all'85 nella prima parte della gestione. Dopodiché con il subvento dei fratelli Castiglioni è nata la nuova Ducati, con Massimo Bordi, con l'851, con la Monster, sono stati dieci anni molto belli. Tutto giusto Massimo Bordi? Possiamo dire che i due fatti importanti della fase Ducati, 85 e 95, che hanno rappresentato il grande rilancio di Ducati. Prima dell'85 la Ducati si era molto impoverita per la non possibilità di investire, di fare prodotti. Con i Castiglioni finalmente abbiamo potuto rinvestire sui motori ed è nato il bicilindrico più potente del mondo, che ha vinto tanti campionati di superbike e ha anche indicato una strada nuova, che è quella del bicilindrico di prestazione, imitata da altri. E poi l'altro punto importante è stato l'idea della nuova Nuda. La Nuda esisteva ai tempi, nel dopoguerra esisteva già, quindi non è un'invenzione assoluta, però la Nuda sportiva Monster, anche questo ha rappresentato uno step importante della storia della motocicletta. Io ti interrompo perché va bene, quello è il passato, però intanto tu da ingegnere e progettista sei diventato qualcosa in più e Castiglioni ti ha chiamato in MV a ricoprire un ruolo ancora più importante, più centrale del rilancio. Cosa fai esattamente in MV? Io oggi sono vicepresidente e supporto l'amministratore delegato che è Giovanni Castiglioni, oltre che nella definizione del piano di gamma, nella definizione delle prospettive di sviluppo prodotto per perseguire il mercato e per rimanere competitivi e riaffermare la leadership tecnologica, che è un punto fondamentale e cruciale per l'MV, insieme con Giovanni Castiglioni abbiamo definito un nuovo business plan, abbiamo definito un rilancio dell'azienda dal punto di vista economico finanziario, perché l'azienda non è solo prodotto, il prodotto è centrale perché senza il prodotto e senza i clienti che prendono il prodotto l'azienda non c'è, ma poi deve tornare tutto, deve tornare anche i conti. Tra l'altro chiariamo che chiaramente il presidente è sempre Claudio Castiglioni che dà una spinta fortissima da sempre a questa azienda. Direi che il presidente è fondamentale perché il presidente ha fatto il primo grande miracolo di determinare in ogni modo il rilancio di Ducati. In questo caso il presidente con la nostalgia di Ducati, devo dire, avendo perso la Ducati in qualche modo, nel 2000 si è reinventato l'MV, l'MV è stata grande nelle corse, ma non nel prodotto e non nel mercato. Il presidente ha fatto una cosa straordinaria, rilanciare i marchi non è cosa facile, ha ricreato un marchio straordinario, ha creato due prodotti straordinari, la brutale e la F4. C'è la ristrutturazione dell'azienda, cosa è significata? Riequilibrare i costi fissi, prima di tutto rivedere l'organizzazione e rimettere gli uomini giusti nel posto giusto. Riequilibrare i costi fissi, ripuntare sulla qualità del prodotto e l'altro aspetto importante, abbiamo rimesso in equilibrio la finanza. L'azienda è ripartita in una situazione finanziaria positiva rispetto al passato, quindi senza debiti, ma c'era un importante bisogno di riduzione del circolante, dei crediti e quindi di azzeramento dell'emoragia di cash flow che c'era stata nel passato. Con questo rilancio e con la prospettiva di aumento di fatturato, noi andremo in posizione positiva dal punto di vista economico, genereremo cassa e saremo in condizioni a 5, a 10, a 15 anni di andare avanti nello sviluppo del prodotto e sostenere gli investimenti necessari. Grazie Massimo Bordi, certo con questo ci dai il quadro di un ottimismo che è importante per tutti, per noi e per MV, andiamo in linee di produzione. Eccoci qui sulle linee di montaggio, la formazione è la stessa con l'ingegner Massimo Bordi e con Maurizio Tanca che ci ricapitola, qui abbiamo la quattro cilindri sulle linee, a che punto siamo con la gamma quattro cilindri che è quella che tutti conoscono? La gamma quattro cilindri è abbastanza vasta, la punta di diamante attuale è la F4RR Corsa Corta che è la prima moto di serie che supera i 200 cavalli, 201 cavalli, che è un record. Poi chiaramente ci sono, ricordiamo che l'anno scorso sia F4 che Brutale sono state rinnovate, poi è uscita la Brutale 920 che è una moto importante perché è la moto entry level della gamma MV ed è una naked quindi fa parte del mercato più importante. Grazie Massimo, allora il quattro cilindri sarà sviluppato, la linea continua naturalmente, quali sono le prospettive per il quattro cilindri? Dopo parleremo del 3. Allora intanto con quello che ha detto Maurizio noi siamo passati da 3 modelli a 5, quindi questo è stato il primo intervento importante per crescere in volumi, per crescere in fatturato, per soddisfare più clienti. Quindi oggi la fascia di clienti a cui noi puntiamo è quella fascia di prezzo 12.000 per la Brutale entry e 23.000 euro per la RR. Quindi questo è già un allargamento importante, riusciamo a soddisfare una fascia più larga del mercato. Il punto ora è mantenere la leadership tecnologica, le moto sono bellissime, bisogna lavorare di più sull'elettronica, quindi dare più offerta di prestazioni anche dal punto di vista della componentistica elettronica. Quindi stiamo lavorando sull'ABS e stiamo facendo altri interventi importanti. Quindi è chiaro che senza andare nei dettagli, perché questo non posso, non posso fare, però il 4 rimane un punto cruciale e fondamentale della MW e ci sono sviluppi importanti per i prossimi 5-10 anni. Beh, però forse è il caso di parlare del 3 che la gente se l'aspetta adesso. Eh sì, il 3. Allora parliamo del 3. È la bomba che tutti si aspettano, ecco. Intanto quante 3 ci saranno subito? No, intanto diciamo allora che strategicamente abbiamo già detto il 3 è importante perché ci porta nella fascia, diciamo, grande del mercato e permette di soddisfare i clienti più giovani, anche le donne per esempio. Quindi è importantissimo che noi riusciamo a fare sulla piattaforma Nuova 3 moto nude, moto sportive, moto di accessibilità più ampia e quindi scendiamo sulla fascia degli 8-9 mila euro che è quella importante per noi per raggiungere gli obiettivi di fatturato. Si parte con la sportiva, da quando? Si parte con la sportiva, cominciamo in novembre, facciamo le pre-serie in settembre, quindi tutta la fase di sviluppo di start-up della produzione è definita. Il prodotto sta andando benissimo, siamo molto contenti delle prestazioni. Partiamo con la sportiva che è anche la più impegnativa perché è quella per la quale abbiamo un target di prestazioni molto alto. Quindi partiamo con la sportiva in novembre e all'inizio dell'anno del 2012 cominciamo con la brutale che è quella da cui probabilmente ci possiamo aspettare volumi più grandi perché oggi le naked vanno più delle sportive ma direi che con l'F3 noi pensiamo di diventare i veri leader delle sportive di questa fascia di prezzo perché sarà assolutamente la moto più avanzata in assoluto che ci sia sul mercato. Quindi gli altri dovranno inseguirci. Già sul mercato e sul nostro sito la naked la chiamano la brutalina, no? Utilizzerete questo nome o non vi piace? Brutale, brutale. Anche sui nomi siamo molto rigorosi. Brutale, punto. Tra l'altro ha un motore formidabile, abbiamo visto, è piccolissimo e ci dicevano i tuoi tecnici che pesa sulla cinquantina di chili, quindi è leggerissimo. Il motore è straordinario e si presta a sviluppi sia sulla cilindrata che sulle prestazioni. Io credo che l'unico motore con il basamento fuso in conchiglia, quindi di una robustezza straordinaria, questo permette degli sviluppi in prospettiva molto molto importanti. È il motore più avanzato in assoluto oggi della categoria. E la gente si aspettava questo perché la rabbia dei clienti potenziali che amano MW, ma che avevano difficoltà ad accedere a fasce di prezzo così alte, finalmente diventano appassionati e possessori di MW. Castiglioni, Bordi Castiglioni, diventano un team straordinario che entrerà nella storia. Attenti a quei due, mi viene da dire. Attenti a quei tre. Va bene, ottimo, via.